sono le 13 e 40 del 9 maggio 2023 mi trovo sul monte penna ecco qui devo salire ancora qui ci sono i sentieri tutto un centriere questo è il panorama di luca del marzo aria pucenzi dietro la montagna c'è il pallone moretti sopra sopra montella ciocca e lì c'è la strada disastrata dal vento la montagna d'acqua che ha arrivato praticamente è stata molta acqua acqua e pango che è un disastro di tutta la strada quindi a destra lì ci può salire al piede con un retto qui invece ci sono bellissimi al piede qui c'è un pezzo di loggio vedete io costeggio i sentieri sono l'occhio guardate se non solo volevo fare una arrabbicata ma come va? i piedi qui i piedi qui guardate come faccio io con i piedi vedete senza l'apporto delle mani praticamente al primo momento mi arrampio quindi posso andare lì anche qui facendo un attimo a te e quindi qui c'è ricombinata la via ecco qui qui abbiamo sentiero calci